Ha detto Enrico Letta, il Partito Democratico troppo spesso è stato un partito antipatico, io voglio farlo diventare un partito empatico. Niente che questo compito spetterà a lei e a quello che c'è dietro, alla sua figura che già in altre occasioni ha smosso proprio sui temi dell'identità e delle battaglie ha smosso molto? Io credo che l'analisi appena fatta da Luca Sommi sia molto corretta. Tutto possiamo dire dei nostri avversari politici ma non che non esprimano una visione chiara. Per noi è sbagliata, è aberrante e non risolve i problemi quotidiani delle persone che si sono impoverite già con la crisi precedente che attraverso questa pandemia purtroppo abbiamo visto scivolare verso una condizione materiale ancora più difficile. Quindi il tema della giustizia sociale, cosa vuol dire in concreto? Ha ragione Sommi a incalzare su questo perché mentre quella visione è chiara, dall'altra parte si può dire che il campo delle forze ecologiste, progressiste della sinistra abbia una visione, esprima una visione altrettanto chiara del futuro. No, e non solo, abbiamo un aggravante e cioè che negli ultimi anni, anzi forse decenni, non si è stati in grado di interpretare quelle grandi trasformazioni che stavano sconvolgendo e impaurendo le nostre società, a partire da quella tecnologica che ha così profondamente impattato il mondo del lavoro. Ma faccio un esempio di battaglia concreta perché giustamente Sommi dice in quella direzione. Ma dobbiamo aspettare che sia soltanto la Spagna a porsi il tema di fare una legge che sancisca i diritti di lavoratrici e lavoratori come i rider. Allora, uno statuto del nuovo lavoro povero, visto che il lavoro è così profondamente mutato, la sinistra non è stata in grado di governare l'innovazione tecnologica in modo che portasse i benefici ma li portasse equamente a tutta la società, quindi redistribuendone gli effetti. L'altro grande tema, l'abbiamo detto anche ieri, è quello della transizione ecologica, vera però, che non sia greenwashing, la transizione ecologica, ma lo dice la parola stessa, non la fai dall'oggi al domani, ma devi avviare un lavoro che accompagni tutta la società, lavoratrici e lavoratori, anche a riprofessionalizzarsi, le fasce più deboli perché altrimenti metti in contrapposizione di nuovo il tema del lavoro, il tema del diritto a respirare un'aria che non ti faccia ammalare. Per questo che ieri invitavo a cancellare questo grande paradosso italiano dei 18 miliardi all'anno che ogni anno spendiamo in sussidi ambientalmente dannosi. migliorare la qualità della vita delle persone e del pianeta, questa è la prospettiva che bisogna rendere concreta con alcune proposte che potremmo già condividere insieme. Ora, cosa mi sono permessa ieri di dire a fronte eletta, entrambi impegnati in un'opera anche nobile di ristrutturazione del proprio pezzo di campo, che questo sarà tanto più efficace quanto porterà quei grandi contenitori a superare alcune grandi contraddizioni. E incalzavo su questo il Movimento 5 Stelle dicendo dovete scegliere se essere quelli dei taxi del mare o quelli di Mare Nostrum, guardando esattamente a quello che fece Enrico Letta in un altro ruolo. E al contempo il PD, se vorrà essere quello del job sector, se vorrà essere quello della vera lotta al precariato e allo sfruttamento. E per noi, con una buona dosi di autocritica, ho detto, dobbiamo superare la frammentazione surreale delle forze della sinistra ecologista dove ormai ci sono più sigle che elettori. Ecco, il percorso ieri ed è stata una serata estremamente positiva, quella organizzata da Bettini e dalla Gorà di Bettini, ha fatto vedere che c'è uno spazio per lavorare insieme su una comune visione di futuro che superi anche le nostre difficoltà di visioni e diversità. Ecco, in questa direzione sicuramente noi siamo sempre stati disponibili a dialogare per ricostruire non i singoli pezzi, ma l'intero campo su basi più coerenti e più comprensibili per le persone normali e per i loro bisogni. Ecco, se da questa parte si sta appunto...